Qualcosa di grosso sta per arrivare sull'isola di Pingu e non rinunciare mai ad essere meravigliosi. Spettacolo. È arrivato il momento che tutti aspettavamo. Ecco a voi il team più incredibile in assoluto. Surfano in giro per il mondo e vivono un sogno. Sono arrivati. Yang Five. Guardarli surfare mi ha reso quello che sono. Come butta, ragazzi? Voi siete... Tu sei il più fantasticoso. La Sony Picture Animation e i WWE Studios presentano JC, Undertaker, Hunter, Paige e Mr. McMahon che sottoporranno Cody e i suoi amici alla prova finale. Qui c'è la mappa del luogo più leggendario del pianeta dove cavalcare le onde. È il cimitero dei surfisti. Cavalcare l'onda più pericolosa della Terra. Oggi non si tratta solo di surfare, ma di sopravvivere. Questa è l'unica occasione che ho per lasciare Pingo e combinare qualcosa nella vita. Li prenderanno sotto le loro ali. Se ci finite dentro diventerete un mucchietto di bocconcini fritti. No, bello, non mangiarmi. Non sono la cena. Per aiutarli a superare le loro paure. Oh no, non voglio guardare. È il momento che abbiamo tanto aspettato. Resisti. E scoprire il significato di lavoro di squadra. Dobbiamo proteggerci. Sempre e comunque. Surf Up 2. Uniti per vincere. Faccio leg press con un grosso macigno pesante. Poi mi appoggio su una mano e continuo la mia serie allenando anche i bicipiti. Poi mi appoggio su una mano e continuo la mia serie allenando anche i bambi. Grazie.